Benvenute e benvenuti. Torno alla scuola SISEC confermando il nostro impegno a promuovere una formazione partecipata e coinvolgente dedicata a giovani studiose e studiosi che desiderano comprendere i fenomeni economico-sociali con gli strumenti teorici e concettuali della sociologia economica e tutti i metodi delle scienze sociali. Quest'anno vi invitiamo a riflettere su alcuni temi centrali per il futuro delle nostre società. La scuola SISEC 2023 è dedicata a sostenibilità e transizioni con un'attenzione particolare al lavoro, alle organizzazioni e alle istituzioni.